e doveva evitare quelle parole. Però poi invece ce ne erano molto pericolosi perché se tu sbagliavi dicevi delle parolacce. E gli stessi adulti che ce li facevano fare non ci permettevano di dire le parolacce. Io ricordo di aver preso più ceffoni da mia madre per aver sbagliato uno di questi scioglilingua che non per aver fatto qualche disobbedienza, rotto un piatto o altro. C'erano degli scioglilingua, ve ne dico uno del più. Per esempio c'era uno che diceva così. Dietro quel palazzo c'era un povero cane pazzo. Date dunque un tozzo di pane a questo povero pazzo cane. Capirete tutti, sbagliando che cosa veniva fuori. E ce lo facevano dire sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce. Quando sbagliavi, perché si faceva vicini guardandosi negli occhi. Un altro diceva su quel monte verde là molto mirto e menta sta. Quel menta inevitabilmente diventava un'altra cosa. Come dicevi, ma poi ce ne erano lunghi, di due pagine di questi, pieni di trappole. Io mi chiedo, da un lato, è vero che i nostri genitori sapevano che noi per strada le parolacce comunque le imparavamo. C'erano tanti ragazzi che ce le insegnavano. Ma che ce le insegnassero loro? Mi viene da ridere oggi a pensare che mia madre, che era una signora tutta così, che non usciva mai senza i guanti e il capellino, che aveva sempre la borsa e le scarpe assortite, che d'estate con agosto non usciva mai senza calze perché una vera signora non esce mai senza calze, eccetera. Poi si sedeva davanti a me e mi insegnava dietro a quel palazzo c'era un povero cane pazzo. Ma serissima, cioè non c'era nessuno. Erano come delle... Non so, io mi ricordo quando poi a scuola abbiamo studiato che i bambini spartani gli veniva messa una piccola volpe sotto il vestito e anche se la volpe li morsicava loro per dimostrare di essere coraggiosi non dovevano piangere. In qualche senso era una forma di educazione che davano a noi questa. Cioè le parolacce ci sono, tu le sai, però tu devi imparare a non dirle, neanche se c'è, diciamo, se sei gravemente provocato, se ti sembra che sia una novità di sfogo. E poi loro, li facevano moltissimo anche fra di loro questi giochi, adesso non dico queste delle parolacce, ma questi, io poi li ho ritrovati quando andavo a lezione d'inglese, c'è un gioco che si chiama Twenty Question, probabilmente lo conoscete, allora uno esce, gli altri si mettono d'accordo e dicono scegliamo un personaggio, Obama, Barack Obama. Lui torna e lui ha a disposizione 20 domande per identificare Obama, allora comincia a dire, uomo o donna? E loro ti dicono, uomo, italiano o straniero? Straniero. Non ti viene in mente, ma ti può venire in mente. È un bianco o un africano? E tu allora dici, eh, cosa dici di Obama? È un africano, Obama è un africano. È un uomo importante o è un attore del cinema, eccetera, eccetera. Alla fine tu, finite le 20 domande, devi indovinare. Il nostro era più complicato, perché aveva delle regole più strette, c'erano delle cose che tu non potevi assolutamente chiedere, anche lì non potevi dire sì o no. Quindi quando tu domandavi, la risposta era sempre una risposta che un po' ti depistava. e poi si facevano delle, delle, come dire, delle trappole. Io sono rimasta famosa in una famiglia di amici, ero molto piccola, perché avendo io fatto la scelta di quello che secondo me era il personaggio, che loro dovevano indovinare, che non sono riusciti a indovinare, sfido io, io avevo quattro anni e mezzo. E alla fine, quando mi ha detto, ma non siamo riusciti assolutamente a indovinare chi è, e io ho risposto trionfante, la lingua di Raffaella. Raffaella era la mia tata, la mia bambinaia, che era tremenda, parlava moltissimo, era tagliente, e tutti a casa mia dicevano, la lingua di Raffaella. Per me era diventata un personaggio, allora questi poveretti di amici dei miei genitori dovevano indovinare come personaggio famoso la lingua di Raffaella. Ma io avevo quattro anni e mezzo, ed ero già addestratissima. Una cosa che faceva molto ridere la mia amica Donatella Ziliotto era un aneddoto che raccontavano in famiglia. D'estate noi andavamo al mare in una spiaggia che era molto lontana e non c'era strada per arrivare, quindi bisognava andare in barca. Però il tragitto era uguale per tutti, quindi eravamo sei, sette, otto famiglie che più o meno alla stessa ora prendevano ciascuna la sua barca, barche grandi, dei pescatori, e che noi non erano le barche nostre, ma dove ci stavano dieci, quindici persone e facevano lo stesso tragitto. Io ero, e il tragitto durava più di mezz'ora, per cui dovevi passare il tempo seduto. Io ero richiestissima dalle altre barche perché ero molto brava a mettere in scena giochi di parole e mi buttavano da una barca all'altra, mi passavano, dice accosta, accosta, quando la barca era abbastanza vicina mi pigliavano sotto le ascelle, boom, e mi facevano tuffare. Qualche volta cadevo anche in acqua, però mi ripescavano subito. Devo dire che io ho avuto un'educazione molto spartana, fra i ceffoni che mi dava mia mamma quando dicevo le parole che lei mi insegnava. Quando ero a Gamennone venivo picchiata da Ettore, venivo spiaccicata al suolo, venivo buttata fuori dalla barca perché non avevo abbastanza... Una volta mio papà, questo non c'entra niente, ma è una cosa che ci fa sempre ridere quando ci ricordiamo, poverino, mio papà è morto da tanti anni. Lui suonava la fisarmonica e per diletto, lui era un medico, mio papà, però suonava la fisarmonica, credo che sapesse tre canzoni in tutto, ma gli piaceva moltissimo andare in giro con questo strumento a tracolla. Un giorno era in barca, lo chiamano da una barca all'altra e gli dicono vieni, vieni, suonare la fisarmonica da noi. Lui mette un piede, e la barca si allontana e lui rimane con un piede su una barca e un piede sull'altra. E la sua grande preoccupazione non era per sé stesso, era per la fisarmonica, perché dice se si bagna, se si bagna, e caduto in acqua si è bagnato. E tutti che gridavano dicevano accosta, 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 e niente, non c'è stato niente da fare, sono andati in acqua, lui e la fisarmonica, che lui fino all'ultimo ha tenuto così, però poi alla fine anche la fisarmonica è andata sott'acqua e l'ha dovuta portare, non so in quale negozio specializzato, perché il sale, l'acqua salata l'avrebbe danneggiata moltissimo. Ma, vabbè, insomma, però credo che di avervi spiegato abbastanza questo clima di, che poi erano anche persone serie, tutti i miei parenti, cioè uno si può immaginare che fossero solo dei zuzzerelloni e dei giocherelloni, erano delle persone che erano dei professionisti, facevano il loro lavoro, eccetera, però c'erano questi momenti in cui oggi si guarderebbe la televisione, si farebbero, si smanetterebbe sui tablet, eccetera, in cui invece noi usavamo unicamente il cervello e la lingua. È un tempo passato che non recupereremo più, non lo so, io sono l'ultima che si ricorda e che ancora ha, come dire, l'allenamento per fare queste cose. Già mia sorella più piccola che ha dieci anni meno di me per esempio è molto meno brava perché è arrivata la televisione quando lei era piccola, io quando è arrivata la televisione mi pare che avessi 13 o 14 anni, quindi alle spalle avevo 13 o 14 anni di altro tipo di giochi, poi anche la televisione, tanto mi è piaciuta che sono andata a lavorare. Lei invece, fin da piccolina, c'era la gallina Trick Track, c'erano i vari pupazzi animati e il suo immaginario e il suo rapporto con le parole e con i giochi di parole è molto diverso. Poi, ripeto, per me è stata unicamente un'esperienza di vita che in qualche modo è andata a finire nel mio lavoro, però non è la base fondamentale del mio lavoro. Può darsi che ci sia in giro qualcuno che invece queste dinamiche, le studi, le confronti, le cerchi delle tipologie diverse, le allinei, eccetera, poi ci sono anche tutti e poi chiudo però e parlate voi, ci sono, e l'ho messo nel giovane scrittore creativo, c'era un capitolo intitolato Sbagliandosi in venta, sbagliandosi in venta, quante cose ti inventi, per esempio, io adesso con la viecchiaia sto diventando un po' dislessica, per cui quando vedo le insegne, soprattutto se sono in fretta, io non leggo quello che c'è scritto esattamente. L'altro giorno ho letto in un parcheggio posti privilegiati, questa è una mia amica, wow, che cosa, no, dice guarda, c'è scritto posti privati, che è privilegiato, io ho detto priv, è privilegiato, ma un giorno che ero in autostrada e che quindi non mi potevo fermare a riflettere, ho visto un grande cartello dove c'era scritto attenzione, polli in agguato, sono dovuta andare avanti, non saprò mai cosa c'era scritto davvero, però nella mia mente polli in agguato me lo chiedo in continuazione, cioè polli in agguato, il pollo di per sé è un animale assolutamente inoffensivo, un gallo ti può fare l'agguato, anche una gallina che ha i pulcini da difendere, ma un pollo non ti può fare un agguato, cosa c'era scritto in realtà in questa, poi invece adesso vi faccio ridere, vicino a casa mia leggo un insegna dove c'era scritto Angelo Scalzo, convinta di aver fatto uno svarione io, allora comincio a dire, beh però effettivamente gli angeli nelle statue, nei quadri, come sono? Allora ci sono gli angeli che hanno le ali attaccate all'orecchio e non hanno corpo quindi non hanno neanche i piedi, però la maggior parte degli angeli se state attenti hanno dei sandali come se fossero degli antichi romani, cioè la scarpa dell'angelo in genere è un sandalo a strisce sottili, però ci sono anche degli angeli scalzi, però ci sono anche degli angeli soprattutto nel 4-500 che hanno invece degli stivaletti che arrivano fino a sotto il ginocchio come dei piccoli coturni e sono in genere quelli che non sono vestiti di bianco ma hanno dei vestiti con qualche nota di colore, ho visto per esempio un quadro di Nella Robbia bellissimo dove gli angeli avevano la pelle, la carne di terracotta e invece il vestito di smalto in vetriato bianco però purtroppo i piedi ce li avevano nascosti e quindi io riflettevo e dicevo ma cosa vuol dire Angelo Scalzo sarà un negozio di scarpe eccetera un giorno sono andata apposta e ho detto no io voglio Scalzo ed era veramente Angelo Scalzo era un nome e un cognome questo era un parrucchiere che di cognome si chiamava Scalzo e di nome l'avevano chiamato Angelo per cui Angelo Scalzo voleva dire Angelo Scalzo non l'angelo che volava per cui anche questo come posso dire la ambiguità semantica perché non è vero che una parola certamente vuol dire solo quella cosa e basta e non un'altra le parole si prestano a equivoci si prestano a un sacco di errori ma con gli errori si prestano anche a una proliferazione di pensieri e proliferazione di storie e di interpretazioni per cui anche un come si può dire un lapsus lingua per dirla con Freud può essere può diventare può diventare una storia cioè messa per titolo un'altra e poi basta poi finisco un giorno noi avevamo una professoressa di latino e greco severissima e un giorno ci detta una versione dal greco intitolata Notti di Cleopatra caspitina prima di metterci a tradurre questa oggi è impazzita Notti di Cleopatra un brano hard cosa farà Cleopatra nelle sue notti con Giulio Cesaro era Dotti di Cleopatra ma siccome noi sardi con le nostre doppie siamo molto evidentemente noi eravamo in una fase ormonale di studentesse che pensavano comunque male lei poveretta ci detta era un brano di Plutarco Dotti di Cleopatra e noi scriviamo Notti di Cleopatra e voi sapete com'è il greco che se uno traducendo piglia uno svarione all'inizio poi sembra che tutto concordi e si scrivono e noi cominciamo e volevamo scrivere però poi dopo dicevano lei era elegante mangiava solo cosa c'entra con le notti di Cleopatra finché qualcuno c'era ma siete cretine e Dotti di Cleopatra e anche lì una N e una D una doppia meno sentita si può veramente inventare di tutto il mondo della parola è bello proprio perché le parole non sono mai definitive la parola può scatenare intorno fantasmi di altre parole chiudi Margherita grazie Bianca allora d'ora in avanti quando a scuola facciamo degli errori noi diremo cara professoressa cara maestra cara quello che è sbagliando si inventa e questo è una cosa che consola un po' sempre no e una cosa che l'ho detta all'inizio ma la voglio ribadire ecco tutta l'opera di Bianca Pizzorno poi lo ribadisco è percorsa sempre da figure femminili le sue sono sempre eroine se c'è qualche domanda da fare facciamola adesso ma tu non vuoi fare l'intervista ancora un po' lo dai lei Emma ha preparato mi senti Emma ha preparato una serie di donazioni io sono risposta risposta del pubblico allora tu prendi questo ecco il gioco non lo puoi scrivere ah le devo no ma non le ho ok guardate con quale cura si è preparata le domande da dove le viene l'ispirazione mi sembra che dovreste averlo già capito dalla vita dalle persone io dico sempre quando vado in tram quando vado alla posta e faccio la coda quando mi guardo intorno dalla vita della gente che vive vicino a me qual è il posto che le dà ispirazione scrivere in bagno scrivania letto ma qualsiasi posto non c'è un posto che ti dia particolarmente sia all'aria aperta che al chiuso no diciamo che per me l'invenzione nasce nasce dalla nasce dalle persone non dai posti perché nel manuale del giovane scrittore ha detto perché nel manuale del giovane scrittore ha detto che c'è uno deve avere un posto diciamo dove si ispira di più e c'era una in bagno che scriveva cosa c'era? una persona che scriveva in bagno che scriveva in bagno vabbè quelli erano dei suggerimenti allora il problema qual è? il problema è che purtroppo non tutti hanno delle ville enormi con tante stanze giardini eccetera spesso se la famiglia è numerosa è difficile rimanere da soli l'unica stanza dove per sta tutto uno sta da solo si chiude e gli altri non entrano a disturbarlo è il bagno quindi quella era un po' una battuta di spirito se proprio tu non riesci a trovare un posto dove isolarti per concentrarti bene e pensare alla peggio ti chiudi un bagno ma era un po' una battuta di spirito lei ha un taccuino in cui annota tutto? no io ho tanti foglietti sparpagliati poi ho delle puntine da disegno e li appiccico oppure dei post-it li metto sulle porte e via dicendo quando non le viene in mente niente cosa fa? allora guarda è molto difficile che una persona abituata a pensare il cui lavoro è pensare prima di scrivere che non ti venga niente in mente è difficilissimo magari ti vengono in mente delle cose che poi dici non sono importanti sono sbagliate con queste non vado da nessuna parte eccetera però a parte quello io faccio tante cose voglio dire io faccio il bucato cucino cuccio sono un bravo falegname so disegnare vado a passeggio vado faccio giardinaggio però non è che non mi venga niente in mente mentre io sto facendo delle cose la mia testa la mia mente funziona 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 sempre non c'è un momento quando dormo neanche faccio dei sogni complicatissimi mi dà dei consigli per scrivere come lei? guarda io tutte le volte che mi chiedono dei consigli io dico leggete 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 e poi do anche un consiglio che molti criticano invece io ci credo tanto copiate non nel senso di scrivere i promessi sposi scrivere una storia che somiglia prendete una pagina che vi è piaciuta molto una due pagine e la ricopiate pari pari e vi rendete conto di come uno scrittore che vi piace mette in fila le frasi lunghe corte con delle principali e delle subordinate quanti aggettivi usa se li mette davanti o li mette dopo il nome se all'interno della stessa frase usa verbi diversi eccetera eccetera cioè copiare un bravo scrittore è utilissimo una volta al giorno uno scrittore diverso scegliete una pagina mettetevi al computer se non volete farlo a mano o fatelo a mano copiate dalla prima riga all'ultima imparerete una enorme quantità di cose utili lei scrive a mano oppure al computer io all'inizio scrivevo a mano e ricopiavo a macchina adesso scrivo al computer non ho finito l'intervista tu credi che sia così credi che sia così veloce allora come fa a scrivere la prima pagina di un libro? guarda in genere quella che io scrivo per prima non è mai la prima pagina spesso e volentieri diventerà la trentesima la cinquantesima cioè a me mi viene in mente un'idea mi viene in mente chiudo gli occhi vedo un'immagine non so Polissena e Porcello mi viene in mente di Polissena che spia un convento di suore dove c'è nel muro un buco con la ruota dove vengono abbandonati i bambini i trovatelli e arriva un giovanotto con un bebè involto in una coperta lo mette dentro la ruota e Polissena dice mamma mia ma che carogna questo abbandona il suo bambino eccetera eccetera e invece dentro la copertina di lana il bambino Porcello si mette a fare versi da maialetto e mi divertiva quest'idea che lei di questo equivoco che invece lui stava portando un regalo alle suore portava maialetto perché le suore poi lo allevassero se lo mangiassero però poi nel libro quello va a finire credo nel quarto o nel quinto capitolo perché prima descrivo chi è Polissena come perché eccetera eccetera fino a farla arrivare a quella notte in cui assiste all'abbandono del bambino maiale quante ne hai ancora Emma una dai l'ultima vuole scrivere ancora romanti cioè vuole ancora scrivere romanti probabilmente sì probabilmente sì non necessariamente sempre i libri per ragazzi o per bambini ho scritto anche dei libri per grandi ma adesso vi posso dire una cosa quasi segreta che però poi l'hanno messa sul giornale il Papa Francesco sta leggendo il mio libro ed è la biografia di Giuni Russo io ho scritto la biografia di Giuni Russo lui ha saputo da qualcuno che c'era questa cantante che a un certo punto della sua vita si era convertita si era messa a fare delle canzoni religiose allora l'ha chiesto gliel'hanno dato e lui ha scritto alla mia socia una lettera a mano libera dicendo grazie del libro e ha firmato suo Francesco una domanda tante volte gli scrittori dicono che i libri sono un po' come nei loro figli tra i romanzi che ha scritto c'è qualche suo figlio che secondo lei non è stato tanto incompreso cioè uno che lei pensava che fosse il libro più bello che avesse mai scritto invece magari non ha incontrato tanto successo oppure viceversa uno che è stato apprezzato letto tantissimo che invece lei non si aspettava che ricevesse così tanto consenso allora di sicuro un libro che io assolutamente non avrei pensato che avrebbe avuto tanta attenzione è l'incredibile storia di Lavinia che è un libro che io ho scritto per scherzo perché c'era questa bambina figlia di miei amici che abitava vicino a me che andava in un asilo dove le facevano dire le parolacce le lasciavano dire le parolacce e lei una notte mi ha chiesto raccontami una storia di caca e di pipì io le ho raccontato la storia di Lavinia e io ero convinta che rimanesse fra di noi poi gliel'ho anche scritta per lei e per due o tre anni ha girato nella nostra famiglia poi Roberto Denti l'ha mandata a un editore eccetera eccetera ha fatto da sola una strada adesso tutti molti mi conoscono quella del libro della caca io sinceramente devo dire sì mi fa divertere mi fa ridere ma non penso Ernesto che frigna dov'è? non penso assolutamente né che sia un grandissimo libro è uno scherzo e invece tutti ah meraviglia meraviglia poi invece c'è tra tanti libri che ho scritto uno che ha avuto meno successo ma io lo sapevo che avrebbe avuto meno successo però l'ho voluto scrivere lo stesso ed è Remi dalle orecchie d'asino è un libro un po' triste come voi sapete è un libro dove una una ragazzina una preadolescente per la prima volta nella sua vita mentre prima era convinta come sono per fortuna spesso i bambini di essere onnipotente fortissima e immortale scopre che il nostro corpo attraverso il quale ci arrivano tante cose belle può anche però ammalarsi e morire e che esiste la malattia e che esiste la morte e questo la porta a fare tante riflessioni nel romanzo non succedono tantissime cose però succede questo passaggio di pensiero proprio questa grande scoperta non sono immortale vedo vicino a me qualcuno che si ammala e muore anch'io mi posso ammalare e anch'io posso morire presto per me è un libro importante perché dice delle cose importanti poi che abbia avuto meno successo degli altri se vi devo dire la verità non me ne importa niente quelli a cui piace che l'hanno capito mi danno abbastanza soddisfazione altre domande sì volevo chiederle un consiglio una sua riflessione sul fatto che i giovani ragazzini di oggi giochino sempre meno fra virgolette nelle strade cioè che il gioco in società in relazione con gli altri non esista quasi più e quindi anche sono portati a stare molto in casa con il computer adesso non voglio generalizzare ma molti che conosco sono a casa da soli perché i genitori sono via al lavoro e stanno ore sul computer con questi anche giochi che avrà sentito parlare ecco voglio sapere che cosa ne pensa e cosa anche direbbe a questi ragazzi che leggono pochissimo perché io ho un figlio adolescente e un altro di 12 anni che è una preadolescenza loro leggono poco a loro non gli interessa ecco la lettura allora io non direi niente ai ragazzi direi ai grandi anche se è difficile anche per i grandi non è mica una scelta o una colpa dei ragazzi quello di non poter uscire a giocare per strada quando gli si danno delle occasioni lo fanno e gli piace quando vanno in campeggio da soli pensate i ragazzini che vanno con gli scout quanto sono ancora con te la maggior parte poi c'è qualche ciccione pigrone che dice mi fanno camminare troppo però la maggior parte torna entusiasta e magari per 4 giorni 5 giorni non hanno aperto un computer non hanno visto niente la verità è che noi adulti da un lato abbiamo reso le città più pericolose da un lato per le troppe macchine da un lato per ma io credo che ci siano meno delinquenti di